caro dottore mi metto nelle vostre mani fate di me quel che volete vi dirò francamente che la mia salute mentale non è normale e voi giudicherete se sia il caso che per un certo periodo io sia affidato alle cure di una clinica anziché lasciarmi in preda ad allucinazioni e sofferenze che mi tormentano ecco la lunga ed esatta storia della singolare malattia della mia anima vivevo come vivono tutti osservando la vita con gli occhi aperti e ciechi degli uomini senza meravigliarmi e senza comprendere vivevo come vivono gli animali come facciamo tutti adempiendo alle funzioni dell'esistenza osservando e credendo di vedere credendo di sapere credendo di conoscere quel che mi circonda quando un certo giorno mi sono accorto che tutto è falso una frase di montesquiet ha illuminato all'improvviso la mia mente questa un organo in più o in meno nella nostra macchina ci avrebbe dato un'intelligenza diversa insomma tutte le certezze fondate sul fatto che la nostra macchina è costruita in un certo modo sarebbero diverse se la macchina fosse diversa ci ho riflettuto per mesi mesi e mesi e a poco a poco una strana luce si è fatta strada dentro di me e questa luce mi ha immerso nelle tenebre in verità i nostri organi sono i soli intermediari tra noi e il mondo esterno perciò l'essere interiore ciò che costituisce il mio io si trova in contatto con l'essere esterno che costituisce il mondo per mezzo di qualche filamento nervoso ora questo essere esterno non viene da noi percepito nelle sue esatte proporzioni nella durata nelle innumerevoli e impenetrabili proprietà nelle origini e nel futuro cioè nei suoi fini nelle sue forme remote e nelle sue infinite manifestazioni inoltre i nostri organi su quella piccola parte di mondo che possiamo conoscere ci danno solo scarse e incerte informazioni incerte perché sono unicamente le qualità proprie dei nostri organi che determinano per noi le apparenti qualità della materia scarse perché possedendo soltanto cinque sensi il campo delle loro investigazioni e la natura delle loro rivelazioni vengono ad essere molto limitati mi spiego l'occhio ci indica le dimensioni, le forme e i colori delle cose e ci inganna su tutti e tra i punti non può rivelarci infatti che oggetti e creature di medie dimensioni proporzionate alla statura dell'uomo e questo ci porta a chiamare grandi alcune cose e piccole altre ma ciò avviene solo perché la debolezza dell'occhio gli impedisce di percepire quanto è troppo gigantesco o quanto è infinitamente piccolo dal che risulta che l'occhio può conoscere e vedere quasi niente e tutto l'universo o poco meno gli è nascosto sia il pianeta nello spazio sia il microbo nella goccia d'acqua e se l'occhio avesse una potenza milioni di volte superiore alla normale se potesse distinguere nell'aria che respiriamo tutti i tipi di esseri invisibili e sui pianeti vicini le creature che li abitano esisterebbero ancora in numero infinito microbi ancora più impercettibili e lontani mondi irraggiungibili dunque tutte le nostre idee di proporzione sono false perché non esistono limiti né alla grandezza né alla piccolezza le nostre valutazioni sulle dimensioni e le forme non hanno valore assoluto essendo determinate soltanto dalla capacità di un organo e dal continuo raffronto con noi stessi aggiungiamo che l'occhio non è in grado di discernere le superfici trasparenti un vetro senza imperfezioni lo fa cadere in errore viene scambiato per quell'aria che pure non vede passiamo ai colori i colori esistono in quanto il nostro occhio trasmette al cervello appunto in forma di colore i diversi modi in cui i corpi a seconda della loro costituzione chimica assorbono e scompongono i raggi luminosi da cui sono colpiti le diverse proporzioni di questo assorbimento e di questa scomposizione originano le sfumature dunque quest'organo impone alla mente il suo modo di vedere o meglio la sua maniera arbitraria di constatare le dimensioni e di valutare i rapporti tra la luce e la materia esaminiamo l'udito ancor più di quanto avveniva con l'occhio noi siamo in completo potere di quest'organo fantasioso due corpi che si urtano producono una certa scossa nell'aria questo movimento stimola una piccola membrana situata nel nostro orecchio che trasforma in suono quello che in verità è solamente una vibrazione la natura è muta ma il timpano possiede la facoltà miracolosa di trasmettere in noi in forma di sensazioni e di sensazioni diverse a seconda del numero delle vibrazioni tutti i fremiti delle onde invisibili dello spazio la metamorfosi compiuta dal nervo uditivo nel breve tragitto fra orecchio e cervello ci ha permesso di creare un'arte straordinaria la musica la più poetica e la più precisa delle arti vaga come un sogno ed esatta come l'algebra che cosa dire adesso del gusto e dell'odorato forse che conosceremmo i profumi e le qualità dei cibi senza le bizzarre proprietà del naso e del palato tuttavia l'umanità potrebbe esistere senza orecchie senza gusto e senza olfatto cioè senza alcuna nozione dei suoni dei sapori e degli odori se avessimo qualche organo in meno ignoreremmo nozioni ammirevoli e singolari ma se ne avessimo qualcuno in più scopriremmo intorno a noi un'infinità di cose che non sospetteremmo mai per mancanza di mezzi adatti a percepirle nel giudicare il conosciuto noi commettiamo dunque errori mentre siamo circondati dall'ignoto inesplorato dunque ogni cosa incerta è suscettibile di contrastanti verifiche tutto è falso tutto è possibile tutto è incerto esprimiamo questa certezza servendoci del vecchio adagio verità al di qua dei pirenei errore al di là diciamo cioè verità per i nostri organi errore al di fuori di loro due e due non fanno obbligatoriamente quattro fuori della nostra atmosfera verità sulla terra errore appena fuori di lei concludo da questo che misteri appena intravisti quali quello dell'elettricità del sonno ipnotico della trasmissione della volontà della suggestione e tutti i fenomeni magnetici rimangono occulti solo perché la natura non ci ha dotati dell'organo o degli organi necessari a comprenderli dopo essermi convinto che tutto quanto mi è rivelato dai sensi esiste solamente per me nel modo in cui lo percepisco e che sarebbe totalmente diverso per un essere diversamente strutturato dopo aver raggiunta la convinzione che un'umanità diversamente creata avrebbe sul mondo sulla vita su tutto idee diametralmente opposte alle nostre poiché la somiglianza di veduta risulta dalla somiglianza degli organi dell'uomo e le opinioni divergenti derivano da leggera diversità di funzionamento nei nostri filamenti nervosi ho fatto uno sforzo sovrumano per individuare col pensiero l'impenetrabile che mi circonda sono diventato pazzo mi son detto sono circondato da cose sconosciute ho immaginato un uomo privo dell'udito che cerca di individuare i suoni allo stesso modo con cui cerchiamo di risolvere tanti misteri nascosti quest'uomo è in grado di constatare fenomeni acustici di cui non potrebbe determinare né la natura né la provenienza e ho avuto paura di tutto attorno a me dell'aria della notte dal momento che non riusciamo a conoscere che pochissime cose e dal momento che tutto è senza limiti che cosa c'è nell'ignoto esiste il vuoto che cosa c'è nel vuoto apparente il confuso terrore del soprannaturale che perseguita l'uomo da che esiste il mondo è legittimo perché il soprannaturale non è altro che quello che rimane per noi invisibile allora ho capito la paura ho avuto l'impressione di essere sempre sul punto di scoprire uno dei segreti dell'universo ho tentato di affinare i miei sensi di eccitarli di far loro percepire in certi momenti l'invisibile ho detto a me stesso tutto è essere il grido che si ripercuote nell'aria è un essere paragonabile a un animale perché nasce produce un movimento e alla fine si trasforma ancora quando more dunque la mente piena di paura che può credere agli esseri incorporei non ha torto chi sono quanti uomini ne hanno il presentimento tremono a loro avvicinarsi tremono al loro impercettibile contatto li sentiamo vicini a noi intorno a noi ma non riusciamo a distinguerli in quanto non abbiamo l'occhio in grado di percepirli o piuttosto quel senso sconosciuto che avrebbe il potere di farceli scoprire allora più di chiunque altro io li sentivo io questi esseri soprannaturali che passano qui esseri o misteri non lo so ignoro come sono fatti ma posso sempre segnalare la loro presenza io ho veduto ho veduto un essere invisibile per quanto ci ha concesso di vederli restavo immobile per delle intere notti seduto davanti al tavolo con la testa tra le mani non pensavo che a quello non pensavo che a loro spesso ho creduto che una mano intangibile o meglio un corpo inafferrabile mi stava sfiolando i capelli non mi toccava non assendo di sostanza carnale bensì imponderabile e inconoscibile e una sera ho sentito il parquet scricchiolare alle mie spalle ha scricchiolato in modo strano ho trasalito mi sono voltato non ho visto niente non ci ho pensato più ma il giorno dopo alla stessa ora lo stesso rumore ho avuto una tale paura che mi sono alzato sicuro 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 che non ero solo nella stanza non c'era nulla da vedere l'aria era limpida ovunque trasparente le due lampade rischiaravano ogni angolo il rumore non si ripetè e a poco a poco mi calmai tuttavia ero inquieto non facevo che rigirarmi nel letto l'indomani mi sono chiuso in camera molto presto cercando di trovare un mezzo per poter vedere l'invisibile che era venuto a trovarmi l'ho veduto mi ha fatto quasi morire dal terrore avevo acceso le candele sul camino e nel lampadario la mia camera era illuminata come per una festa e sul tavolo brillavano due lampade davanti a me c'era il letto un vecchio letto di quercia a colonne a destra il caminetto a sinistra la porta che avevo serrato col chiavistello dietro di me un grande armadio con le ante a specchio mi ci guardai avevo due occhi strani e le pupille dilatate poi come tutti i giorni mi sedetti il rumore si era prodotto nei due giorni precedenti alle nove e ventidue attesi quando arrivò quel momento esatto percepì una sensazione che non so descrivere come se un fluido un fluido a cui non potevo resistere fosse penetrato in me attraverso ogni molecola del corpo annegandomi l'anima in uno spavento atroce e sublime e lo spritti olio si ripetè vicinissimo a me mi alzai voltandomi tanto in fretta che per poco non caddi la stanza era rischiarata come se fosse giorno eppure non mi vidi più nello specchio era vuoto chiaro luminoso ma io non vero riflesso benché fossi proprio davanti a lui lo osservai con occhi allucinati non osavo avvicinarmici sentivo che c'era tra noi lui l'invisibile era lui a nascondere la mia immagine oh come sono rimasto terrorizzato ed ecco che cominciai a vedermi in fondo allo specchio in una specie di nebbia una nebbia un velo come di acqua mi pareva che quest'acqua defluisse da sinistra a destra lentamente rendendo di secondo in secondo più nitida la mia immagine era come la fine di un'eclissi il corpo che mi nascondeva non aveva contorni precisi ma una sorta di opaca trasparenza che andava a poco a poco schiarendosi alla fine mi vidi chiaramente come ogni giorno quando mi specchio l'avevo dunque veduto poi non l'ho più percepito ma l'aspetto l'aspetto sempre e sento che la mia mente si sta perdendo in questa attesa rimango per ore per intere notti giorni settimane davanti a quello specchio per aspettarlo ma non viene più lui ha compreso che l'avevo veduto ma io sento che ormai l'aspetterò sempre fino alla morte aspetterò senza tregua davanti a questo specchio come un cacciatore in agguato e nello specchio ora comincio a vedere figure aberranti mostri schifosi cadaveri ogni sorta di bestie spaventose di esseri atroci tutte le inverosimili visioni che ossessionano la mente dei folli ecco la mia confessione caro dottore ditemi che devo fare a che 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 che